Buongiorno bambini! Come state? Siete pronti per la nostra lezione di scienze? Oggi studiamo una nuova categoria di vertebrati, gli anfibi. Prima di tutto voglio dirvi che gli anfibi sono animali molto antichi. Discendono dai pesci e sono stati i primi vertebrati a lasciare l'acqua. Anche se ne vivono a stretto contatto. Leggiamo insieme questo breve testo. Il nome anfibi significa doppia vita. Infatti, quando sono piccoli, gli anfibi possono vivere solo nell'acqua e respirano con le branchie, come i pesci. Crescendo, si trasformano completamente. Perdono le branchie e incominciano a respirare con la pelle e con i polmoni. Per questo gli anfibi adulti riescono a vivere anche sulla terraferma. Attenzione però, devono vivere sempre in prossimità dell'acqua. Questo perché respirano anche attraverso la pelle, che devono mantenere sempre umida. Il corpo degli anfibi non ha una copertura particolare. Si dice che hanno la pelle nuda, in quanto non sono ricoperti né da scaglie come pesci, né da squame come rettili, né da piume come gli uccelli, o da peli come mammiferi. Le loro uova, anche gli anfibi sono vipari infatti, sono senza guscio perché vengono deposte nell'acqua e non rischiano perciò di seccarsi. Ecco, queste sono uova di rana. Vedete? Sono senza guscio e sembrano un po' gelatinose. Vediamo gli anfibi più conosciuti. Fanno parte degli anfibi le rane, i rospi, le salamandre e i tritoni. Prima di concludere, vorrei mostrarvi in breve il ciclo di vita di un anfibio molto conosciuto e che abbiamo nominato, la rana. Il primo stadio di vita della rana avviene dentro le uova. Ecco qua, il piccolo della rana, che si chiama Girino, piano piano prende forma. Eccolo dentro all'uovo. Possiamo vederlo perché l'uovo non ha il gusso. Il girino, quando è piccolo, appena nato, assomiglia ad un pesciolino. Vive nell'acqua e respira con le branchie. Crescendo, iniziano a crescere. Prima le zampe posteriori. Le vedete? Sono quelle dietro. E poi quelle anteriori, cioè quelle davanti. Eccole qua. Adesso vi mostro il girino, una foto vera. Vedete? Ha ancora la coda come un pesce, ma ha già le zampe posteriori e quelle anteriori. Piano piano, crescendo, diventa una rana. Sono sicura che l'avrete vista in prossimità di qualche corso d'acqua. Bene, la nostra lezione è terminata. E adesso che avete conosciuto un po' meglio gli anfibi, siete pronti a rispondere alle domande del questionario che vi ho preparato. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon weekend. Un grande abbraccio dalla maestra Lucia. Grazie.